E' tornata anche a Cremona la paura del West Nile virus, dopo il primo caso registrato presso l'ospedale di Ferrara nei giorni scorsi. La scorsa estate furono tre nella nostra provincia i casi di febbre del Nilo, trasmessa tramite le zanzare comuni, ma ATS e Valpadana rassicura che nessuno dei fastidiosi insetti finora catturati sul nostro territorio è risultato positivo al virus, per cui, almeno per il momento, pare si possano dormire sonni tranquilli. La maggior parte dei soggetti che contraggono la patologia comunque neppure se ne rende conto. I soggetti più a rischio sono anziani e malati e i sintomi vanno dalle eruzioni cutanee alla febbre alta con meningoencefalite. L'incubazione va dai 2 ai 14 giorni dopo la puntura. Al momento non esistono vaccini specifici, si può solo contare su un efficace intervento di prevenzione, per quanto possibile, da parte degli enti preposti.